Non litigate, non fate storie, vi segnate un asterisco e mi dite con quale squadra avete avuto problemi. Se c'è un ailante... Attenzione! Ma non ne prendono mai una! Alla dove vicino non muore mai! Ma loro in piedi non muoiono no? E' il fumogeno! Vai! Fategli il culo! La pechessina! Mettinette! Tappi ci pesa sul bizzara! Tanni, ai bimbi! Quello! 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 Ma questo è il cuore da prendere! Guarda che sono tutti i primoti! Guarda che sono tutti i primoti! Guarda che sono tutti i primoti! Guarda, guarda. Guarda, guarda! Guarda, guarda! Guarda! Guarda così gli altri. E' morto! E' morto! ma non c'è un po' di mozzi ma non c'è più la delate ma non c'è più la delate ma se non è valido ma se non c'è più il mozzi ma se non c'è più il mozzi ma non c'è più il mozzi ma cosa è fanno? ma ma sacro eh due di più il mozzi ma non c'è più il mozzi ma non c'è più il mozzi ma due allora ma dai non è possibile ma dai ce n'è uno ma dai ce n'è uno